Esce con delle parole chiave consolidare una famiglia che c'è già, che ha dato motivo in questi quattro anni di consentire di portare avanti il calcio e sicuramente di avere una categoria da C importante anche alla luce delle prossime riforme. Quindi essere qui ci dà la possibilità di studiare la situazione. Non so in quale girone saremo, se nell'A o se nel B, l'attesa è quella di riportare i nostri tifosi che sono un bene prezioso allo stadio e sentire il loro calore sarà importantissimo, quindi non in un martello in vuoto. La parola green, green come squadra, come giovani che in qualche modo plasmeranno anche la parte tecnica e anche green come politica marketing della società che mira ad avere anche un'ulteriore visibilità televisiva per il futuro, cosa che comunque c'è già stata nella stagione appena finita e di conseguenza queste sono le mire della nostra società che rimane con l'attuale assetto e che cercherà di allargare e di consolidare anche il suo assetto societario perché la famiglia Bogarelli metterà a disposizione il 18% di puote e quindi questo potrà darci la possibilità di essere ancora più forti.